che cosa comunicano occhi e sguardo un vecchio detto popolare diceva che gli occhi dice che gli occhi sono specchio dell'anima e in fondo gli occhi sono una delle parti più comunicative del nostro corpo ad esempio un altro detto comune popolare dimmelo guardandomi negli occhi come dire se me lo dice guardandomi negli occhi capisco delle cose in effetti gli occhi a livello non verbale sono molto comunicativi possono darci molte indicazioni analizziamo un attimino occhi e sguardo allora persone che mantengono lo sguardo fisso anche se fosse diciamo rivolto verso di noi mantenendo il contatto oculare ma uno sguardo fisso assente proprio come se fosse estragnato quasi indicano la volontà di non volersi impegnare comunque di cercare un escamotage per tra virgolette liberarsi di noi è un po come se mentre ci guardano negli occhi questo con questo sguardo assente stanno pensando come fare a vicolare insomma comunque è un segnale di scarsità di interesse invece uno sguardo eccessivamente mobile diciamo con occhi che si muovono soprattutto in senso laterale diciamo con molta velocità indicano una un'insicurezza della della persona mentre invece occhi che si muovono ma non con una frequenza così elevata indicano comunque una persona che ha una vivacità di pensiero lo sguardo rivolto diciamo così sempre verso destra prevalentemente verso destra è caratteristico delle persone che cercano di evitare il momento presente e sono proiettate sul futuro cioè pensano al futuro e non vivono il presente persone che mantengono invece molto lo sguardo verso sinistra in modo prevalente diciamo indica che si ha a che fare con una persona che invece afflitta dal pensieri del passato e per questo motivo non riesce a viversi completamente il presente altre caratteristiche importanti sono quelle mediate dalla programmazione neurolinguistica che dà delle modalità diciamo di accesso ai canali sensoriali in questo caso i movimenti sono molto rapidi non sono fissi diciamo così movimenti degli occhi verso l'alto indicano un accesso visivo cioè la persona utilizza la parte visiva del cervello ci sta indicando che è una persona prevalentemente visiva e movimenti laterali indicano un accesso uditivo movimenti verso il basso un accesso cenestesi inoltre diciamo così che è anche importante vedere da quale parte sono sono mossi gli occhi diciamo così perché la parte la persona che tende a muovere gli occhi verso destra ci sta dicendo che si sta costruendo l'immagine si sta costruendo quindi la risposta quindi anche in questo caso sono movimenti rapidi che devono avvenire in sincronica risposta ad una nostra domanda vuol dire che probabilmente non ci sta dicendo la verità non è che per questo dobbiamo mandarlo in galera però prendiamo atto di questo indizio invece verso persone che muovono gli occhi tendono a muovere rapidamente gli occhi verso sinistra tendono a indicare che si sta ricordando qualche cosa quindi sta accedendo alla memoria quindi è probabile che questa persona ti stia ricordando un evento che veramente ha vissuto poi ci sono possiamo osservare ad esempio la dilatazione delle pupille la dilatazione delle pupille indica attrazione questo segnale e diciamo va un po tenuto sotto controllo perché è molto sensibile alla variazione di luminosità per cui dobbiamo verificarlo se non ci sono sbalzi di di luminosità diciamo un'altra cosa quando noi vogliamo utilizzare uno sguardo persuasivo dobbiamo mantenere il contatto oculare ma non fisso costante nella persona con alcune variazioni conviene guardare negli occhi poi abbassare un attimino portare la tensione sulla bocca eventualmente ancora un po basso poi riportarla sugli occhi diciamo così questo è il tipo di sguardo che ci dà più capacità penetrativa diciamo più capacità persuasiva in quello che che vogliamo dire bene per questo video è tutto vi do appuntamento al prossimo vi invito a seguirmi sul blog htpvv soluzione www.vip.com ciao